In pieno rush finale per le primarie dell'8 dicembre, allora è vero che c'è anche Civati, perché qui a leggere i giornali sembra un testa a testa Renzi Cuperlo. No, i giornali hanno deciso già chi vince e chi perde, diciamo. Io non sono classificato perché vincerò, sorprendendo tutti i pronostici che peraltro sbagliamo sempre. Si ricorda doveva vincere Bersani, poi non ha vinto, doveva cambiare il mondo ed è rimasto tutto uguale. La stessa maggioranza, lo stesso Presidente della Repubblica, lo stesso schema politico, che è quello che io ho sempre avversato. Chi non vuole che questo pasticcio vada avanti, che queste larghe intese che si sono dimezzate proseguano, chi vuole che ci sia una nuova legge elettorale e si vada a votare con una nuova classe dirigente del Partito Democratico che vincerà contro una destra che è ancora in cerca d'autore, beh, deve votare Civati. Qual è l'essenza della vostra mozione? L'essenza è quanto le dicevo, è una politica dell'alternanza e dell'alternativa. C'è una destra, ci deve essere una sinistra, non tutti in mezzo a cercare di reggere se stessi, a conservare se stessi. Ci deve essere una politica fatta con poche risorse, avete visto il nostro comitato fatto di ragazzi giovani con il minimo che possiamo permetterci e il massimo che possiamo fare. La politica può essere così e noi abbiamo già fatto vedere come può diventare il nuovo PD. Un PD che costa poco, che ha comportamenti, uno stile molto sobrio e molto appassionato però perché ci stiamo divertendo. Un PD che sorprende perché appunto non leggiamo solo i giornali. Noi attraversiamo il territorio, sono stato a Taranto ad esempio, sono l'unico politico come dire che è andato a fare iniziative a Taranto senza aver paura di contestazioni, di parole dure che pure i cittadini insomma ci rivolgono, non hanno tutti i torti. Sono stato sui luoghi di lavoro in questi mesi da Piombino al Friuli, alle Marche, in luoghi dove il lavoro sparisce, dove la produzione non c'è più e io penso che il PD debba essere fatto così. Questa è l'essenza della nostra proposta e poi non è Civati, è un Civoti perché ci sono un sacco di figure straordinarie e ci sarà Maria Teresa Lanzetta, quella sindaca di Monasteraci in Calabria che non ha dovuto lasciare l'incarico perché non era coperta dal PD che si candida per noi. Le faccio solo un nome ma da quello si capiscono un sacco di cose. E qualora l'8 dicembre non finisse come Civati Civoti si augura? Civati Civoti che fa? Armi e bagagli? No, armi e bagagli mai, anzi io penso che altri se ne debbano andare dal punto di vista politico non personale evidentemente. Comunque avremo portato tantissime persone nuove in questa Assemblea Nazionale nella direzione del PD, collaboreremo ma non nel senso del compromesso. Cioè se ci sarà la possibilità di fare le cose che noi pensiamo di fare le faremo, se ci saranno delle critiche da portare continueremo a farlo e se ci sarà da protestare come mi è capitato di fare sul caso Cancellieri in solitaria in quell'aula un po' gelida nei nostri confronti. Lo farò, lo farò anche se si tratta di farlo appunto di fronte al Presidente del Consiglio, i Ministri, non ho nessun timore, nessuna reticenza. Andremo avanti così.